Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Ciao, sono Lorenzo e mi sono appena laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi dell'Insubria. Quando cinque anni fa mi trovavo nella tua posizione e dovevo scegliere presso quale Ateneo iniziare il mio percorso di studi, decisi di venire all'Insubria perché ero convinto che le sue dimensioni un pochino più contenute mi avrebbero garantito un rapporto più stretto tanto con i docenti quanto con i miei compagni. Dopo cinque anni devo dire che le mie aspettative sono state soddisfatte in pieno. Ho passato più tempo in università che a casa studiando nelle aule studio dopo le lezioni chiedendo chiaramente ai docenti sempre molto disponibili. Insomma per me l'Insubria è stata una piccola grande famiglia e spero possa esserlo anche per te.